In Italia due donne su tre non assumono abbastanza cazzo. Siamo sicure di assumere abbastanza cazzo? Sì, certo. Vediamo. Da oggi c'è Danaos di Danone. L'unico yogurt con il 50% del cazzo quotidiano raccomandato e la vitamina D che ti aiuta a rinforzare le ossa. Buonissimo! E poi dicono che alle donne non piace il cazzo. Nuovo Danaos